Manuel Bortuzzo è un nuotatore italiano, impegnato ora nei giochi paralimpici. Si tratta di un ragazzo romano che vola a Parigi con la speranza di conquistare una medaglia. L'incidente Davanti a un pub nella zona di Roma a sud mentre era in compagnia della fidanzata Martina, anche lei nuotatrice, la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata per sempre nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2019. Il giovane è rimasto coinvolto in un agguato, ma non era lui il bersaglio. La corsa all'ospedale San Camillo, l'estrazione del proiettile e la constatazione della lesione che avrebbe impedito il recupero della mobilità delle gambe. Da un giorno all'altro una delle promesse del nuoto italiano ha visto andare in frantumi i sogni coltivati sin da bambino e poi al centro federale di Ostia, dove si allenava con i campioni Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. L'Azzurro non ha comunque mollato e ha subito iniziato la riabilitazione alla Fondazione Santa Lucia di Roma, non perdendo mai la speranza di tornare un giorno a camminare. Nel frattempo, i due aggressori confessarono di averlo colpito per errore. La vita di Manuel Bortuzzo viene raccontata nel docufilm Ultima gara di Raul Bova e Marco Renda, dove alcuni campioni di nuoto raccontano la propria storia e i propri sogni e in cui l'atleta interpreta se stesso. Nel settembre 2021 il giovane ha partecipato al grande fratello Vip, suscitando l'ammirazione e la stima di tutto il pubblico per il suo coraggio e la determinazione nell'andare avanti nonostante le difficoltà. Proprio durante l'esperienza al grande fratello, Manuel ha trovato l'amore in Lulu Salassier. Una volta conclusa l'esperienza nel reality show e Bortuzzo ad annunciare la fine della loro storia su Instagram raccontando di divergenze insuperabili. Le Paralimpiadi di Parigi 2024 Archiviata la parentesi televisiva, ora nella testa dello sportivo ci sono i giochi paralimpici e il sogno mai spento di vincere una medaglia. L'appuntamento è fissato per domani quando inizierà la manifestazione a cinque cerchi. Per chi volesse ammirare in diretta le imprese sportive di Bortuzzo e degli altri atleti paralimpici in gara, appuntamento dunque in questi orari, in chiaro, su Rai2 e sempre gratuitamente sulla piattaforma streaming di RaiPlay. Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.